Ah c'era tutto... Scusi Google? Sì Perché? È un problema fortissimo Top! Non dovresti Pronti? Ciao Anto! Ricky ciao! Ciao di nuovo! Di nuovo! Perché di nuovo? Questo è un di nuovo che capiremo soltanto fra di noi Tu sai a quale generazione, a quale categoria generazionale tu appartieni? Posso risponderti con certezza ed estrema sicurezza X Generazione X? Sei preparatissimo? Posso invece chiederti e ti rivolgo la stessa domanda Tu sei sicuro? Tu sai a quale generazione appartieni? Ah io sono indubbiamente un Gen Z Ah... No no Non è vero infatti Non è vero, forse non avevo tutta questa credibilità In questo approccio di risposta Ma io direi di essere Millennials Generazione X Quindi che va dal 65 all'80 La generazione Millennials Che va dall'81 al 96 E poi c'è una generazione che però io per motivi di puntata Lascierei spiegare al nostro ospite Che è qua Giusto Oggi con noi Facciamo un bel applauso registrato di quelli finti a bestia A Sabina Rosa Allora sono appunto Sabina Rosa Sono la responsabile di questa struttura per adolescenti con problematiche psicopatologiche Assolutamente nuova in Emilia Romagna Direi che è la prima di questo genere E quindi sono insomma anche molto contenta di essere Qua ci sta un altro applauso State coinvolte in questo progetto Ah no stanno applaudendo quindi non posso parlare Ok Di essere stata coinvolta diciamo all'apertura di questa struttura Di questo nuovo progetto che è assolutamente molto molto stimolante Insomma mi piace molto si vede Per te è una desima struttura perché penso tu abbia militato praticamente un po' dappertutto Ho iniziato a lavorare al CEIS nel 97 Ma nel 96 ho iniziato il tirocinio E in tutti questi anni direi di aver attraversato un po' tutte le aree del CEIS Sono laureata in psicologia specializzata in psicoterapia Ma orgogliosamente dico anche di essere un educatore professionale Che è un titolo che mi sono conquistata sul campo Grazie alla mia lunga esperienza come educatrice Cosa di cui vado molto fiera e orgogliosa Allora a nome di tutta la categoria degli educatori Ti ringraziamo per questo applauso e questo particolare punto di vista Essere educatore è una cosa che mi ha fatta crescere moltissimo Ecco a tale proposito siamo arrivati al momento del gioco di Rispondi senza pensarci un attimo Il gioco prevede che tu senza pensarci un attimo Deva rispondere di giatto Te la senti? Sei pronta? Proviamo Tra tutte le strutture che hai detto Qual è quella che ti è piaciuta di più? Vai di cuore vai vai Allora io vi dico quella a cui ho lasciato un pezzo del mio cuore è Casa Mimosa Vai Salutiamo Casa Mimosa Non era così difficile rispondere a questa domanda È finita la nostra grande rubrica di rispondi senza pensarci un attimo Vai come? Ne avevo una Vuoi farne un'altra vai? Sì Ci vuole quella grinta all'americana Eh quello che mi mette un po' a disagio Prova prova Allora qual è la comunità che ti ha fatto crescere di più? Vai 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 Stessa risposta Casa Mimosa 5 più 7? 12 Bravissima Questa è stata quella che mi ha messo più in difficoltà È vero paradossalmente Paradossalmente è così Il 5 più 7 fa questo effetto signor Fa 12 Bellissimo Fa 12 5 più 7 Sì 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 Guarda un attimo su Google Certo che fa 12 Questa è in discussione la mia risposta Quanto fa 5 più 7? Fa 12 A posto Gen Z è una semi residenza Quindi centro diurno per intenderci No? Perché semi residenza Se no sembra chissà che cosa Se dovessimo spiegare le persone che sono lontanissime dal nostro pianeta È un centro diurno Un centro diurno che insomma dove i ragazzi arrivano circa alle 9 del mattino A seconda insomma se abitano più o meno lontano E escono alle 5 del pomeriggio Accoglie adolescenti Quindi diciamo che la fascia d'età che fino ad oggi abbiamo accolto va dai 14 ai 19 Media 16 anni E sono adolescenti seguiti dalla neuropsichiatria infantile E che quindi hanno diciamo delle problematiche psicopatologiche Io mi piace dire che sono ragazzini che in qualche modo hanno interrotto il loro percorso naturale di crescita Hanno avuto una sorta di blocco evolutivo Per cui non riescono a fare le cose che normalmente fanno gli adolescenti alla loro età Cosa fate? Com'è la giornata Gen Z? Allora intanto gli operatori, gli educatori di Gen Z Che saluto è la mia squadra Un saluto agli educatori di Gen Z Che sono bravissimi Sono veramente diciamo che sono quelli che tengono in piedi la struttura Veramente una squadra favolosa Loro partono diciamo almeno un educatore parte la mattina presto Quindi 7 e mezza, 8 a seconda è già in struttura Perché noi essendo un po' scomodi dalla città Perché siamo in quel di Villanova Insomma quindi siamo in piena campagna modenese C'è tutta la parte dei trasporti Perché per i ragazzi è impossibile raggiungere la struttura in completa autonomia E quindi gli operatori la mattina, gli educatori hanno anche questo diciamo compito Di partire e andare a recuperare i ragazzi Nei vari punti di ritrovo Qualcuno anche a casa Qualcuno che è un pochino più in difficoltà A raggiungere l'autostazione Perché magari è più in difficoltà proprio nel mettere fuori il naso Fuori dalla porta di casa in poche parole Però intorno diciamo 9, 9 e mezza Siamo tutti in struttura E c'è questo momento Che è il momento che ci sediamo intorno al tavolo Che c'è questa colazione merenda A seconda no? Per qualcuno è la merenda e per qualcuno è la colazione Perché chi si alza la mattina molto presto per arrivare a Modena Ha già fatto colazione ma quella diventa la merenda Facciamo la programmazione della giornata e la mattina parte Alle 10 in punto inizia quella che è l'attività strutturata diciamo della mattina Che tipo di attività strutturate? Abbiamo i gruppi sulle emozioni Ne abbiamo due Uno che è più sulla gestione Sull'ABC proprio delle emozioni E di solito questo è per i ragazzi che magari È meno tempo che vengono in comunità Quindi fanno una sorta di alfabetizzazione Alle emozioni Poi abbiamo un altro gruppo che invece lo chiamiamo Gruppo Evo Che sarebbe evoluto Abbiamo trovato questi nomi fantasiosi Dove invece si portano anche dei temi un pochino più importanti Che vanno a toccare insomma anche aree più profonde C'è anche un progetto come dire che si inserisce che è Genoveffo È chiaro Genoveffo Che è in realtà un... si affronta il tema della sessualità Poi abbiamo altre attività sempre gestite dagli operatori che sono il Cineforum E poi abbiamo laboratori gestiti da maestri d'arte Abbiamo fatto dei laboratori musicali con degli esperti dall'esterno Uno con Nevruz, non so se lo conoscete Nevruz Poi abbiamo il laboratorio di teatro Gestito dalla nostra Francesca Iacoviello Che immagino che conosciate Abbiamo un laboratorio creativo con una volontaria Abbiamo appena terminato il laboratorio di graffiti Il laboratorio di cucina Non dimentichiamoci il laboratorio di cucina Tutti i martedì e pomeriggio che a loro piace tantissimo Cerchiamo anche di collaborare con agenzie sul territorio Con altri enti diciamo sul territorio Abbiamo fatto diciamo dei percorsi al museo estense Quindi emozioni e arte Col museo delle figurine Andiamo al maneggio Maneggio di Sozzigalli, la corte Tutti i martedì mattina Vanno a fare equitazione E poi che altro esterni Abbiamo una collaborazione con lo spazio Reset di Soliera Che è uno spazio giovani Abbiamo fatto un laboratorio di fotografia insieme Volevo dirti Forse vi servirebbe qualche attività Ti serve qualche attività? No, no, a voi Perché mi sembra che non abbiate molto materiale da offrire Rispetto ai ragazzi che vengono Che tipo di fragilità portano? Allora 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 fai le domande Diciamo che Si è un peso Scappato via Eccoci qua amici Vai vai prego 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 No, allora Il quadro Facciamo così Sintomatologico Lo posso dire È troppo difficile No? Sì Dai Sì È Quello ansioso Diciamo per la maggior parte Disturbi d'ansia Disturbi d'ansia Esattamente Che Sono per lo più reattivi Anche a dei traumi Quindi Entriamo un po' nel campo Del Disturbo post-traumatico Da stress No? Poi abbiamo i disturbi dell'umore Quindi depressione Con anche forte ritiro sociale E scolastico Ritiro sociale vuol dire Non so Non riesco più ad uscire di casa Sto in casa Esattamente Moltissimo Mi creo il mio piccolo mondo in casa E non metto più Esattamente Mi creo il mio piccolo mondo Nella mia cameretta di casa E Il fuori mi spaventa troppo Quindi mi creo Insomma Il mio abito Il mio luogo sicuro La mia base La mia Basi La mia casina sicura Il mio mondo sicuro E non Metto piede fuori Quindi In questo caso È anche abbastanza complicato Farli arrivare A Gen Z Però Insomma Ci siamo anche riusciti Non sempre Devo ammettere che Qualcuno è stato Difficile Già salire su quell'auto E fare il tragitto Diventa un problema Per alcuni Già scendere le scale di casa Diventa Diventa un problema Però insomma Questa è una sfida Una bella sfida Insomma Credo che sia la parte Proprio bella Del nostro lavoro Vedere i ragazzi Che Come dicevo prima Che hanno avuto Questa interruzione Nel loro percorso Evolutivo Vedere che pian pianino Riprendono Cioè io ho questa immagine Di una macchinina Che viaggia 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 A un certo punto Si ferma No E per farla ripartire Richiede un po' Come dire Di manutenzione No E poi riparte Pian pianino Giagetta diventa Proprio lo spazio Dove poter ricominciare A frequentare No Dei coitanei Ma è in un ambiente sicuro In un ambiente protetto Dove insomma Poi del grosso male Non mi può succedere Perché comunque Ci sono gli educatori No Che ci aiutano Sì e poi soprattutto Sia compresi Sia dallo staff Che dagli educatori Su quali sono le proprie Problematiche Ecco quindi Non c'è neanche bisogno Di dover fingere Con fatica Esattamente Infatti questa Diciamo La cosa più Più evidente Che non devono fingere Si sentono un po' tutti Come dire Anche loro Nella stessa barca E quello che loro dicono No Sempre Che a Genzetta Non si sentono giudicati Neanche dal gruppo Dei coitanei Che è uno Delle loro paure Più grosse Quello del giudizio Quindi non andare a scuola Perché nel gruppo classe Mi sento giudicato Sento di non essere adeguato E quindi Vederli Di nuovo Mettersi d'accordo Perché poi succedono Queste cose Che fanno amicizia Tra di loro E poi li vedi Che si mettono d'accordo Per andare al cinema insieme Per andare al McDonald's Proprio ripartono Questa è una cosa Veramente molto bella Da Io invece Ti Se posso Volevo farti una domanda Ma senti A parte il fatto Che ti volevo chiedere Cos'è sto tubo di bambù Che tu sei davanti Ti hanno sponsorizzato Io non lo so Stai portando uno sponsor È il mio amore Che me l'ha regalato Era un segno Un saluto alla Ludo Era un segno Che volevo Cosa sta succedendo Nel mondo Come mai ad un certo punto C'è bisogno di Gen Z Cosa sta succedendo Questa è una bella domanda Non lo so Cosa sta succedendo Nel mondo Io Quello che posso dire È che questa generazione È un po' Una peculiarità Che è quella di essere Come dire Nati Con Con internet Nati Con Un'apertura Al mondo intero Questa è la generazione Degli iperconnessi Ha sicuramente Anche tutti Gli aspetti positivi Perché io sono sempre Per guardare Sia il lato positivo E anche Le criticità Rispetto Delle situazioni La criticità Credo che sia Il fatto che Per questo Essere iperconnessi Sono più Come posso dire Esposti No A Alle critiche Anche Faccio un esempio Dei social I selfie Cioè Chi è che non Si fa un selfie Della generazione Z I selfie Poi si pubblica Ma nei momenti In cui io lo pubblico Un selfie Ho anche Delle aspettative Cosa mi aspetto Mi aspetto Il like Mi aspetto Una reazione Un'interazione Se questi like Non arrivano No Se questa interazione Non arriva Mi sento Il povero Scusate il termine Sfigato Che nessuno Mi caga Quindi non è più Solo Vado a scuola E nessuno mi caga Sono a casa mia Nella mia cameretta No Faccio una foto La pubblico Nessuno mi caga Mi sento escluso Cioè anche quando Non sono in mezzo Agli altri L'altra cosa Questo anche Concentra L'attenzione Molto sull'immagine No Quindi Farsi Un selfie Se si è Magre E perfette Un conto Se sono sovrappese Un altro Quindi Tutta anche L'ansia Che genera Questo essere Comunque sempre Iper Esposti Quindi c'è questo elemento Che sicuramente Non è indifferente Poi c'è tutto il tema Del cyberbullismo Che conosciamo Molto bene Quindi Tu sei nel tuo Anche se sei da solo Non sei da solo Perché loro sono sempre Sempre affacciati Nel mondo Perché c'è questa cosa Che ecco appunto A proposito Di generazioni Noi della generazione X Ma anche Millennials Non siamo nati No Con Con internet È una cosa Che abbiamo conosciuto Pian pianino Quindi Mentalmente Mettiamo una differenza Tra l'essere Offline Online Tra mondo virtuale Mondo reale Questa generazione Questa differenza Di fatto Non la vive E hanno ragione Non c'è Credo che Come appunto adulti Cadiamo anche In questo Pregiudizio No Ma non è Cioè essere offline Essere online Sono due cose diverse E invece Secondo me Questo è un approccio Sbagliato Perché loro Non Non sentiranno mai Questa cosa Quindi dobbiamo Partire dal fatto Che mondo virtuale Mondo reale Sono fondamentalmente Entrambi reali Devono coesistere E partire da questo No Come dire Da un punto Comune Altrimenti Si interrompe La comunicazione Con loro Ma come anche I videogiochi No Ero piena Di pregiudizi No Di Ah no Il videogioco La dipendenza Dal videogioco Si rincretiniscono Davanti al videogioco Poi in realtà No Se ci va Un pochino Più a fondo Anche il videogioco Può avere Una sua funzione È comunque Qualcosa che loro utilizzano Quindi bisogna capire No Il perché L'interesse E devo dire Che il videogioco Collegato Perché sa che loro Giocano anche Online Esatto Online Durante la pandemia Ha anche aiutato Tanto Questi ragazzi A rimanere Come dire In una comunità A rimanere in rete A rimanere Connessi Come dire Altrimenti Probabilmente Gli effetti Sarebbero stati Anche più disastrosi Il covid Che li ha chiusi in casa Se pensiamo all'età Proprio nell'età più critica No Fine Fine dell'infanzia Inizia Pre-adolescenza No Dove sono Un po' Quella fase Delle scuole medie Quindi elementare Scuole medie No I primi anni Di superiore Dove apprendi Quelle che sono Le competenze Sociali No Le prime porte in faccia Le prime critiche Le prime cose Te la E come dire Ti fai le ossa No Per arrivare Poi alle scuole superiori Terza superiore Che sei un pochino Più Delinearsi come trauma Fondamentalmente Chiedimelo Anto Chiedimi Quale console per videogiochi Hai tu a casa? Ricky Sì? Quale console hai tu Per videogiochi A casa? Tutte Loro ne parlano Nei gruppi Di queste cose Quindi voi dovete Affrontare gruppi Proprio parlando Anche veramente In soldoni Di like Giochi online Di chiusura Cioè hanno Questo alfabeto Proprio ne parlano Esplicitamente Beh Assolutamente sì Cioè tutto quello Che accade Nei social È un tema Che loro portano Tantissimo La critica ricevuta E l'amico Che pubblica Una storia Dove l'hanno visto Con qualcuno Che pensavano Che in realtà Non dovesse frequentare Cioè tutto ruota Intorno a quello Che loro vedono E vivono sui social TikTok Instagram Gen Z All'interno Anche un piccolo modulo Che si chiama Cappello di paglia Un piccolo modulo Residenziale Cioè un riferimento A One Piece O? Certo Bravissimo Sì sì One Piece L'idea di Cappello di paglia Era perché Sai che lui Era tutto Si allungava Si allungava Poi tornava indietro Era un po' l'idea Della resilienza No? Quello di uscire A A incassare Dei colpi Ma poi dopo Riprendere la forma Normale Quindi noi possiamo Accogliere un massimo Di due ragazzi Contemporaneamente Che possono dormire Gen Z Questo sempre Su richiesta Della neuropsichiatria Infantile E in che caso Perdonami Vi è una richiesta Per il quale Dormano fuori casa? Allora Quando Ad esempio Ci sono Delle tensioni In casa In casa E c'è bisogno Come dire Di decomprimere Sfiatare Sia per il ragazzo Sia per la famiglia Quella bellissima volta che Allora la volta che Ho riso di più E' stato Quando Una Delle nostre ragazzine Mi dice Con Aria Un po' Così Sognante Non so Per quale ragione Mi si avvicina Mi abbraccia E mi dice Sabina Come vorrei che fosse La mia nonna La nonna? Si Sempre per il fatto Che saltano la generazione E' stata una cosa Bellissima Bellissima Che Cioè Mi ha fatto ridere Tantissimo Veramente Amici della Gen Z Nonna Forse è un pelo Too much Un po' troppo Quali sono i passaggi Che devo fare Per magari Arrivare a una soluzione Come quella di Gen Z Bisogna rivolgersi Al servizio Di neuropsichiatria infantile E a quel punto La neuropsichiatra Può valutare Un inserimento A Gen Z Si lavora in relazione Con tutta una serie Di persone Che vanno a comporre Un'equip Allargata di lavoro Sul caso Quindi Si lavora In rete Con il servizio Comunque inviante Infatti loro vengono A Gen Z Ma continuano I collochi Con la neuropsichiatra Anche con A volte Anche con la psicologa Della neuropsichiatria infantile In alcuni casi Hanno anche Un TRP Tecnico Della riabilitazione Psichiatrica Della neuropsichiatria infantile Questo per dire Che il livello E l'attenzione E la cura Comunque diventano Veramente molto alti Per il modo di lavoro Assolutamente Si Noi Sabina Ti ringraziamo di nuovo Di essere stata con noi Grazie a voi Ringraziamo tutti quanti Grazie Iscrivetevi signori Al canale Iscrivetevi al canale Di Youtube Che è IG Tognolo Che è quello Da cui state vedendo Questo video Cliccate anche sulla campanella In modo da poter ricevere le notifiche Grazie a voi Grazie Sabina Grazie Grazie mille Grazie a voi